Negativi i tamponi su due bimbi di Pergine, la Terina, i figli della donna, primo caso sospetto di coronavirus nell'aretino, non hanno infatti contratto il virus, il Covid-19. Negativo anche il marito della 42enne, risultata positiva al tampone, ancora in attesa di validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. La donna sarebbe stata in contatto con la 32enne, rientrata da Milano e da sabato ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ponte Aniccheri. Quest'ultima è clinicamente guarita e da oggi è a casa in isolamento domiciliare. Anche la 42enne di Pergine, la Terina, si era messa in autoisolamento volontario domiciliare, da quando aveva preso della positività della collega e soprattutto da quando si era accorta di avere alcune linee di febbre. Aveva così contattato il numero verde dell'Asla Toscana Sud-Est e nella serata del primo marzo le era stato effettuato il tampone risultato positivo. Le sue condizioni di salute sono costantemente monitorate e risultano comunque essere discrete. Il tampone era stato poi eseguito anche ai familiari più stretti della donna, per adesso confermata la negatività del marito e dei due bimbi. La famiglia resta comunque in isolamento. Una famiglia in quarantena, sono 14 giorni, ma questa è per la sicurezza, credo sia una delle misure di prevenzione insieme a tutte le altre misure igienico-sanitarie che è bene che ognuno metta in atto, però credo che la nostra comunità e i nostri cittadini saranno molto comprensivi. Sento anche io la vicinanza, perché i sindaci più che necessitari in questo momento della vicinanza delle istituzioni superiori hanno bisogno della comunità. Una comunità che deve ovviamente non minimizzare il problema, perché siamo in una fase di crisi, questa è una fase di crisi per tutti noi, che ci troviamo ad affrontare un problema grande e che è un problema anche difficile, perché poi tra l'altro è il primo, ma sono sicura che lo supereremo tutti insieme, che andrà bene e bisogna avere fiducia nel lavoro di tutti e soprattutto bisogna mantenere la calma. Ecco, l'invito è questo, mantenere la calma senza minimizzare. Si attendono invece ancora i risultati dei tamponi effettuati sugli altri familiari. Le scuole a Pergine e la Terina resteranno comunque aperte, come annunciato dal sindaco, in quanto non sussistono le condizioni per adottare alcun provvedimento di sospensione delle attività didattiche nel comune.